Come parte del nostro plan di governazione, è realizzare la nostra economia con le nostre finanziarie pubblici per riscattare la nostra economia, rinnovare la nostra economia e anche reconstruire la nostra economia. Ressere la nostra recuperazione come un lavoro che va a perdere. Ressere la nostra recuperazione come un lavoro nuovo. Nel settore del turismo, noi lo vai immediatamente back al 100%. Noi lo enfociamo per avere la capacità di compagnia di avaliazione. Noi lo aumentiamo anche la connectività tra Aruba e il resto del mondo. Noi lo stimoliamo a creare la nostra economia. Noi lo expandiamo la nostra economia, l'opportunità di nuovo, nel settore di energia rinnovabile e parte di economia di conoscimento. Nel settore dell'agricoltura, noi lo stimoliamo. Questa è quella che lo causa per limitare la salita di divisi. Nel settore di dialogo anche nel settore economico. Creare un balanzo tra il crescimento economico e la ripartizione, condizioni di lavoro digno, come anche la creazione di compagni di lavoro nuovo. L'abbiamo a parlare di un altro punto di action nel nostro plan economico. Noi lo creare un incentivo nel fiscale e dono il sostegno necessario nel settore, come le imprese nel mediano e in piccolo. E tra le persone che non hanno una priorità nel settore. Noi lo rinnovare e reconstruire il edificio non existente. Noi lo creare un finanziamento favorabile per il settore privato, facendo per avere accesso a una capital più facile e leggera, incluendo le instituzioni finanziarie e il Banco Centrale del dialogo Aki. Noi lo accelere il progetto non sostenibile e con un rendimento efectivo per la nostra economia. Noi lo finalizzare il processo di rehabilitazione di rifineria, e dono il terreno Aki è una destinazione economica nuova. Lo stimolare anche il sviluppo economico e sociale nel nostro distritto di nostra isla, facendo, tra gli altri, un strumento non fiscale per stimolare il sviluppo non desiderato.